dopo alcuni mesi di utilizzo sono qui a tirare le prime somme io e perform abbiamo un grande film perché si perform è il prodotto di gius class nato per gli sportivi e per tutti quelli che fanno movimento di quelli che tutti quelli che hanno uno stile di vita sano attivo beh il sapore è sicuramente delizioso a me rimane il dolce in bocca che non spucca e la quantità di acqua che metto nel perform per prenderlo reintegra il sudore che ho buttato fuori durante lo sforzo quindi non solo proteine ma reintegro i liquidi quindi perform è diventato diciamo il mio compagno post allenamento grazie